Nell'era della rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale AI si è affermata come una forza trasformativa, promettendo innovazioni senza precedenti in ogni settore. Tuttavia, questa rivoluzione tecnologica porta con sé nuove sfide regolamentari. L'antitrust degli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla concentrazione del potere dell'AI nelle mani di pochi giganti tecnologici, con Microsoft recentemente entrata nel mirino delle indagini. L'AI e il monopolio tecnologico L'AI sta ridefinendo il panorama tecnologico, ma la sua rapida scesa solleva interrogativi critici sulla concorrenza e la centralizzazione del potere. Jonathan Kanter, a capo dell'antitrust USA, ha espresso preoccupazione per il fatto che le capacità trasformative dell'AI possano essere monopolizzate da un ristretto numero di aziende molto influenti. In un'intervista al Financial Times, Kanter ha rivelato che l'antitrust esaminerà con urgenza i punti di strozzatura del monopolio nell'AI, che spaziano dalla potenza di calcolo ai dati, dai servizi cloud ai talenti ingegneristici, fino all'accesso a componenti hardware vitali come i chip grafici. Regolamentazione e intervento Le autorità regolatorie sono in allerta, temendo che il settore emergente dell'AI possa superare il limite massimo della concorrenza. Kanter sostiene che è essenziale agire con rapidità per prevenire che le aziende già dominanti nel settore tecnologico assumano il controllo completo del mercato. L'approccio antitrust, guidato da Kanter e dalla Federal Trade Commission, si è dimostrato più rigoroso, sfidando in tribunale colossi come Google e Apple per pratiche considerate monopoli sleali. Microsoft e le mosse strategiche La Federal Trade Commission sta indagando su un recente accordo tra Microsoft e la startup di iInflexion. A marzo, Microsoft ha assunto il cofondatore di Inflexion e quasi tutti i suoi dipendenti, pagando alla startup circa 650 milioni di dollari per una licenza di rivendita della tecnologia. Questa mossa ha sollevato interrogativi sulla conformità alle normative antitrust, dato che le acquisizioni di valore superiore a 119 milioni di dollari devono essere segnalate alle autorità federali. La FTC e il Dipartimento di Giustizia, congiuntamente responsabili dell'antitrust, hanno il potere di bloccare fusioni o investimenti che potrebbero ridurre la concorrenza o creare monopoli. Altre aziende coinvolte Oltre a Microsoft, altre aziende stanno attirando l'attenzione dell'antitrust. Secondo il New York Times, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indagherà su Nvidia per presunte violazioni delle leggi antitrust. Nel frattempo, la FTC esaminerà la condotta di OpenAI, la cui partnership con Microsoft è sotto esame informale anche in altre regioni. Questi enti regolatori stanno agendo con urgenza per garantire che il settore dell'AI non cada nelle mani di pochi soggetti molto ricchi, ma rimanga un terreno di competizione aperta e innovazione. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.